Diceva un antico detto, sotto il sole non accade nulla di nuovo e infatti anche oggi, sotto un bel cielo terzo e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra tesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché grazie al tempo il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. L'atmosfera è proprio quella delle grandi serate, c'è tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica e non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni che saprà darci. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Torsby. Ottima iniziativa ma si è scontrato con i difensori. Ciò da una palla lunga. La dà indietro per evitare grane. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Prova la verticalizzazione ma il tentativo non ha fortuna. Hanno spinto immediatamente sull'acceleratore spostando il baricentro in avanti e pressando alti. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Cerca l'uomo là davanti. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Che pallone gli ha dato. E passa. Conclusione. Una palla filtrante ben piazzata. Meritava un esito migliore. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto. Imbeccata nello spazio da manuale. Peccato per il tiro. Smanaccia via il pallone. Moro. A sinistra con il passaggio. Occhio al traversone. Rendru. Thursby. Scodella in avanti. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. La gioca in profondità. Si fa trovare al posto giusto. Al momento giusto. Cerca la profondità. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. E c'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì Fabio. Stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e gli rende l'avioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. L'atmosfera è proprio quella delle grandi serate. C'è tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica. E non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni che saprà darci. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Thursby. Ottima iniziativa ma si è scontrato con i difensori. Ciò da una palla lunga. La dà indietro per evitare Grane. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Prova la verticalizzazione ma il tentativo non ha fortuna. Hanno spinto immediatamente sull'acceleratore spostando il baricentro in avanti e pressando alti. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Cerca l'uomo là davanti. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Che pallone gli ha dato. E passa. Conclusione. Una palla filtrante ben piazzata. Meritava un esito migliore. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto. Imbeccata nello spazio da manuale. Peccato per il tiro. Smanaccia via il pallone. Moro. A sinistra con il passaggio. Occhio al traversone. Rendru. Thursby. Scodella in avanti. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. La gioca in profondità. Si fa trovare al posto giusto. Al momento giusto. Cerca la profondità. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Giota una palla lunga. La dà indietro per evitare grane. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Prova la verticalizzazione ma in tentativa non ha fortuna. Hanno spinto immediatamente sull'acceleratore spostando il baricentro in avanti e pressando alti. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Cerca l'uomo là davanti. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Che pallone gli ha dato. E passa. Conclusione. Una palla filtrante ben piazzata. Meritava un esito migliore. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto. Imbeccata nello spazio da manuale. Peccato per il tiro. Smanaccia via il pallone. Moro. A sinistra con il passaggio. Occhio al traversone. Rendru. Thursby. Scodella in avanti. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. La gioca in profondità. Si fa trovare al posto giusto. Al momento giusto. Cerca la profondità. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. E c'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì Fabio. Stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e gli rende la vita più difficile. Esatto. La chiave è proprio questa. L'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla. Si scambiano di posizione. In questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono sfruttare per gli inserimenti. Sia sulle fasce ma soprattutto al centro. Zanoli. Prova a giocarla in profondità. Prova a giocarla in profondità.